sto iniziando la costruzione del flower shop all'interno troverete tutte bustine numerate 11 bustine con il numero 1 e 9 bustine con il numero 2 e 8 bustine con il numero 3 il problema è che quando comincerete a seguire ecco questo è proprio il primissimo passo per costruire questo quindi avrete bisogno di questi pezzetti qua dovrete aprire più bustine del numero 1 e tenerle separate quindi le bustine non vengono c'è all'interno della singola bustina non c'è il procedimento per costruire passo passo ma dovete aprire tutte quante le bustine magari ecco tenendoli separate e su ogni bustina troverete uno o due pezzetti che vi serviranno per la costruzione dei primi pezzi una cosa che sinceramente trovo abbastanza assurda poco senso poco sensata va bene dopo circa tre ore forse anche di più di lavoro in interrotto riprendo con l'ultima busta la terza quindi come vedete ho aperto tutte quante le bustine messe separate perché per andare avanti i pezzi andranno presi da una singola bustina quindi bisogna aprirle tutte iniziamo la quarta parte la terza parte che sarebbe poi il tetto e dopo credo più o meno sei ore poco meno di sei ore è stata completata e devo dire che ne basta la pena perché i particolari sono tantissimi molto molto ricca e abbastanza complicato anche direi quindi l'indicazione dei sei anni in su per i bambini credo che non sia proprio veritiera ecco più quinta quindici in su perché a parte la pazienza ma alcuni pezzi sono per incastrarli ci vuole un po di tempo e quindi non è così facile per una mano di un bambino poi i pezzi sono talmente piccoli questa poi sono quasi 1600 vediamo se riesco a chiuderla come vedete si può chiudere in questo modo qui così poi abbiamo la nostra casetta chiusa molto molto bella